Io oggi devo stare veramente molto attento a parlare, perché per 60 minuti c'è stata una squadra in campo che ha fatto calcio, ha creato una serie innumerebili di occasioni da gol. Purtroppo fra il primo e il secondo tempo c'è stato un episodio nel sottopassaggio dove sta una messa un po' di tensione e poi secondo me ci sono alcune decisioni che ci penalizzano. Il rigore è un cross, è successo quello che è successo sempre, quando c'è un po' di aggressione verbale, non so a che cosa, però dispiace perché noi dovevamo chiuderla questa partita, io gli ho detto ragazzi, dovevamo chiuderla assolutamente, siamo stati troppo poco cattivi sottoporta, cosa che invece in altre occasioni non è successo. E poi dopo, è chiaro che dopo quando ti trovi sotto con due situazioni del genere, insomma il goder a doppio, mi sembra veramente che abbia dell'incredibile, perché Comi va dritto sul portiere. Baroni, nel primo tempo il Pescara ha letteralmente dominato l'avversario, come diceva lei avete fallito alcune occasioni, anche l'inizio di ripresa vi ha visto protagonisti, poi però dopo il pareggio dell'Avellino si è un po' spenta la luce nel Pescara, forse anche un problema psicologico? Sì, sì, secondo me abbiamo lasciato qualcosina, nel senso che invece di continuare a mordere stranamente abbiamo rallentato, loro sono usciti fuori vehementi perché sapevano che comunque con una partita spigolosa avrebbero raccolto qualcosa, e quindi l'hanno fatta anche con qualche eccesso, gli è stato permesso e quindi noi su quel terreno lì la partita noi la perdiamo.